Dopo 11 anni di presidio sul territorio concentrato sulla città di Pesaro, dalla prossima settimana i centri antiviolenza della provincia si triplicano allargandosi verso l'entroterra. A Cagli ogni lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e a Orbino ogni martedì alla stessa ora. Quattro ore in cui le operatrici dei centri parla con noi legate alla cooperativa labirinto e all'associazione di volontariato percorso donna offriranno assistenza sociale, psicologica e legale alle donne del territorio che subiscono violenza fisica, abusi sessuali, stalking o ogni altro genere di privazione della libertà. Una rete che si allarga che è stata presentata nel comune di Pesaro alla presenza delle responsabili del centro, degli assessori Sara Mengucce e Giuliana Ceccarelli e del collegamento in videoconferenza dell'assessore alle pare opportunità di Urbino Marianna Vetri e dell'assessore alla solidarietà di Cagli Simona Palazzetti. Eravamo l'unica provincia che ancora non aveva sportelli territoriali e quindi siamo molto contenti a 12 anni dalla nascita del centro di così aprirci e di riuscire ad accogliere in questa maniera sicuramente molte più donne. Siamo certe che il numero di donne che faranno accesso aumenteranno di tanto, anche se in effetti il centro antiviolenza di Pesaro è già da diversi anni il numero, il centro che ha il maggior numero di accessi rispetto a tutti i centri antiviolenza delle Marche. Dal 2016, da sempre comunque dall'apertura siamo andati in progressione e negli ultimi anni abbiamo rispetto ad alcune province anche un numero di accessi che è il doppio o il triplo. Come dicevo prima in conferenza stampa non perché ci sia più violenza ma perché è un servizio che si è fatto conoscere. Le forze dell'ordine, gli ospedali, i servizi sociali ne hanno colto le importanze e quindi nel momento in cui una donna si presenta al pronto soccorso, nel momento in cui una donna si presenta in caserma per una denuncia, gli viene data la possibilità, gli viene messa conoscenza del fatto che c'è un centro antiviolenza e solitamente poi le donne arrivano a noi e a quel punto noi cominciamo a lavorare collegate con le forze dell'ordine, con i servizi sociali, con gli ospedali per fare questa rete di protezione e di accompagnamento verso l'uscita perché è comunque vero che è importante il centro antiviolenza ma come dico sempre se noi non ci colleghiamo in rete con il resto dei soggetti che fanno parte della rete antiviolenza le donne le mettiamo in pericolo perché se non abbiamo vicino noi le forze dell'ordine, ripeto gli ospedali, i consultori per tutto quello che riguarda la violenza assistita, il lavoro con i bambini, con gli adolescenti che assistono nella maggior parte dei casi alle violenze domestiche non andremo da nessuna parte. Oltre alla sede di Pesaro in via Diaz 10 parla con noi si allarga dunque alle nuove sedi di Cagli in via Lapis 10 e di Urbino in via Sasso 122, tre centri per rispondere ad esigenze d'ascolto crescenti. Fino all'anno scorso avevamo una media di circa 50 donne in carico, ad oggi sono 57, come dicevo non sono 57 dall'inizio dell'anno ad oggi ma sono le donne che ad oggi stiamo seguendo. È un lavoro, le operatrici presenti sono come operatrici dell'accoglienza che sono le persone che accolgono all'inizio del percorso la donna, avvocate e psicologhe. Queste tre figure professionali, abbiamo tra l'altro da diversi mesi un assistente sociale, queste quattro figure professionali collegate a tutto il resto dei soggetti della rete antiviolenza fanno questo lavoro e voglio dire anche che nella maggior parte dei casi le donne escono della situazione di violenza perché questo forse si dice un po' troppo poco, nella maggior parte dei casi i percorsi hanno un esito positivo, lo dico anche perché voglio incoraggiare chiaramente tutte le donne a prendere quel telefono, magari ci chiamano solo, magari solo una telefonata, non importa, venire a un centro di violenza non significa subito denunciare o fare chissà che, di questo le donne sono spaventate, con noi si può anche venire solo a fare una parola, a raccontarci cosa succede.